Come state ragazzi? Sono Simone E oggi sono qua con un nuovo video TAG Me l'avete richiesto in tantissimi E finalmente oggi Eccomi qua Come ogni anno puntuale Come la tosse Eccomi qua con il video sui regali Di compleanno Yeee Con i video di regali di Natale Yeee Me l'avete richiesto in tantissimi E finalmente oggi eccomi qua Vi raccomando se questa tipologia Dove vi mostro i regali I video di acquisti Vi piace C'è un fantastico thumbs up Un fantastico like Cos'è meno le farò anche altri Altri e altri Vi ricordo che ho già fatto Praticamente faccio ogni anno questo video Per inaugurare l'anno dopo Quindi nel caso vi siete persi Correte a vedere anche il video dell'anno scorso E di due anni fa eccetera Così almeno vedete Le mie varie fisse annuali proprio Ormai è una routine del canale Infatti io ogni anno Una volta che ho finché io ho ricevuto tutti i regali Li metto da parte Pronti per il video Quindi Capite un po' voi Come sto messo Per causa vostra Iniziamo subito Come primo regalo che vi mostro C'è questa super mega sciarpa Da parte della Debbie Grazie mille Ti mando un bacione enorme Sciarpozza grigia Sarà bella È tipo scaldacollo Quindi potete fare quanti giri volete E eccetera Super mega carina Poi la Debbie mi regala sempre le sciarpe Ogni anno le sciarpe così Grazie a lei mi sto rifacendo l'armadio di sciarpe Quindi veramente troppo top Tipo tutta maglia è E poi è grigia Quindi si può abbinare praticamente con ogni cosa Con il mood milanese Che il mood milanese è sempre triste solo e grigio Poi l'Alessanda invece Un'altra mia amica super Mi ha regalato questo fantastico Shower gel Eccolo qua Con questo packaging tutto argento Lo shower gel di Prada Ha un profumo raga Lo sniffo Sarà mega buono Veramente Quindi non l'ho ancora provato Poi vi farò sapere Comunque Si prospetta un ottimo shower gel Poi ero a Mi mancavano dei pantaloni Quindi faccio Cioè raga Qualcuno mi prenda dei pantaloni Prima questi qua Tutti quanti skinny Di questo colore molto acceso Sai allegro Felice Per quando uno veramente È di buon umore Li può indossare Veramente stra bello Color Cacchetta triste Il classico color Cacchetta Eccolo qua Faccio stare Un guizzo di vita Dai Simone E dopo Tu sentite Mi sarebbero altri pantaloni Però ha sempre colori Molto accesi Gioiosi Fantastici E quindi ho preso Il classico color Verde marcio Eccolo qua Veramente raga Meraviglioso Però no Vabbè scherzo Sono dei colori Stra mega Autunnali Stra mega Di gennaio Quindi veramente Spero che mi portino Fortuna per gli esami Perché altrimenti Siamo fregati qua Quindi mi raccomando Poi state Fortuna Toccatevi qualcosa Il ferro Le bolse I cornini Non lo so Fate qualcosa Poi Avevo tutti questi Negali qua Non li ho ancora usati Tutti quanti Impacchettati Lì per bene E mi hanno regalato Questa camicia Che in te lo deve essere Per capodanno Però io non uso le cose Fino a quando non vi faccio Il video Sono come Chi sei make up Prolessi noi Te la fate le chanel E io Le camicie Ecco qua Questa Oddio ma che sta arrivando Raga Cos'è un turbine È tutta quanta blu Con tutti i bottoni Le asole dei bottoni Sono vedete bianche Quindi sono anche Molto decorative Poi qua sopra Abbiamo anche questa Toppa Che nel caso Usate qualche Gomitata Qualcuno È una gomitata Fashion Perché vedete Anche la mano Tutto questo pattern In abbinanza E quindi veramente Ragazzi ma cavallo Il collo poi è rigido Quindi molto professional Veramente Hashtag Troppo top Veramente super Elegante Sexy glamour Poi la gente sa Hashtag La gente Veramente Della mia fissa Barra collezione Per i profumi Magari un turno Ve li farò anche vedere tutti Così mi hanno regalato Questo fantastico Ice bag E fusion Mia zia Mi l'ha regalato Con dentro Tutto arancione Vedete Il packaging Sparkly Wow 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 Vedete Tutto glitterato Allora Poi Si apre Senza fare danni Simone Mi raccomando Questo qui È il packaging Super carino Guardate quanto è bello Poi qua davanti Ci siete voi Eccomi qui Ciao Ciao raga Ciao 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 Ok È veramente Super mega buono Iceberg e fusion Ve lo consiglio Stra buono E quindi eccolo qua Da aggiungere Al profumo Che emetto Poi raga Lo volevo Da tantissimo Veramente E finalmente Dopo Tantissimi anni Ce l'ho qua E sto parlando Di Sauvage Di Dior Eccolo qua Veramente bellissimo Per intenderci Quello con la pubblicità Con Johnny Depp Praticamente Tutto il packaging È opaco Meraviglioso Super mega elegante Stando la parte davanti Che è lucida Lo apriamo insieme Qui c'è anche Questo qui Vedete In lucido Tutto il resto opaco Quindi Veramente Il packaging Super mega elegante E questo qua È la boccetta Proprio Si spruzza È questa qua Con scritto Proprio Sauvage Bisogna dirlo Con questo tono Se no non conta Da chiaro Che diventa scuro Poi oggi Raga la luce Qualche anni Sembra di essere A Dubai Oggi Veramente Comunque Raga È stra mega buono Ora facciamo Un pacciugo Buonissimo E quindi Eccolo qua Veramente Super mega buono Ve lo consiglio A tutti I ragazzi Che non sanno Ancora Che profumo Scegliere Questo qua È fantastico Ve lo stra consiglio Poi Ho ricevuto I soldi Quindi non so Se volete Quando li spenderò In vestiti Vi posso fare Anche il video All Di quello Anche dei buoni Da quanta euro Eccetera Quindi quando comprerò Il tutto Magari ve lo faccio vedere Faccio un piccolo video All Passiamo adesso L'ultimo Regalo Ultimo Ma non meno importante Anzi Sto parlando Sto parlando del Computer Veramente Stra mega bello Io avevo già Il computer fisso Cioè ho il mac fisso L'avete già visto Nel room tour Nel video della mia scrivania Eccetera E mi ci trovo Veramente Da dio Solamente che Con l'università Visto che io vado Sempre tutti i giorni A Milano Sono molto tempo In treno Molte ore in sale D'aspetto Molte ore ovunque Sono più ore in giro Rispetto che a casa Allora Mi serviva Un computer portatile Devo ancora un po' Ambientarmi Perché non sono per niente Abituato Ad avere un computer portatile Avendo avuto il fisso Per praticamente Cinque anni Quindi Pian piano Ho preso Di abituarmi Spero anche Con questo Di portare Sempre Di alzare Veramente la qualità Anche dei lavori Sia dei lavori Della scuola Dell'università Sia quelli dei social Quindi sia per youtube Sia per instagram Sia per musical.ly Sia per tutto Praticamente Il computer è questo qua È il macbook pro Grigio oscuro Grigio siderale Non vorrei dire cavolate Mi sembra grigio siderale Che si apre così Super mega bello Anche la tastiera Bellissima Con la touch bar Qua sopra C'è la touch bar E il coso per l'impronta digitale Là sopra È veramente super bello Adesso veramente Mi dovrò abituare a usarlo Perché Uno non so usare bene Il trackpad Mi devo abituare Perché Avendo usato Il magic mouse Per praticamente Tutta la vita Ora vi dovrò Un po' abituare Col trackpad E poi dovrò anche Abituarmi Ad avere Il caricatore Eccetera E questo computer Ha un unico difetto Che se non così sottile Non ci stava la porta Per l'USB E quindi Ho dovuto anche comprare Questo qua Che è l'adattatore Adattatore per le chiavette Per intenderci Questo qui E quindi Dovrò cercare Di non dimenticarmi In giro Perché conoscendo La mia testa Lo dimenticherò Sicuramente in giro Sicuramente lo dimenticherò A casa Eccetera Quindi Dovrò veramente Fare attenzione Bene ragazzi Mi sembra Che vi avete fatto vedere tutto Io spero che questo video Vi sia veramente Piaciuto Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Cosa avete ricevuto voi O se avete fatto anche voi Il video Linkatemelo qua sotto Perché sono troppo 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 Curioso Di vedere Il tutto Tutti i vostri regali Tutti i vostri gusti Tutti i vostri interessi E il vostro stile Perché i regali Traspare anche questo Come sono Poetico oggi Ma verrà come seguitemi Sempre su Instagram Su Facebook Su Tumblr Su Snapchat E su Musical.ly Io mando Un bacione Enorme A Elisa07 Ti mando Un bacione enorme Che mi ha commentato L'ultimo video Sulle chat assurde Di Whatsapp Ti mando Un bacione enorme Anche a Michela Nardi Che anche lei Mi ha commentato Quel video Ti mando Un bacione Enorme Io vi auguro Un fantastico anno Mi raccomando Cliccate la campanellina E il like Io vi mando Un bacione A tutti Alla prossima Ciao Ciao Il mio cuore è il vostro Ciao Buon anno a tutti Buon anno a tutti Ciao ciao Buon anno a tutti Buon anno a tutti